Cristicchi porta il suo paradiso al Teatro Verdi. Simone Cristicchi porta il Paradiso, la terza delle tre cantiche della Divina Commedia, appisa al Teatro Verdi questo giovedì 25 novembre. Ovviamente si inserisce pienamente nelle celebrazioni dei 700 anni della morte del grande poeta fiorentino e l'evento è fortemente voluto dalla Regione Toscana condiviso dall'amministrazione comunale di Pisa e ovviamente dalla Fondazione Teatro Verdi. Il fatto che la Regione Toscana decida di celebrare questa situazione non soltanto a Firenze ma anche nelle altre città significa avvicinare l'istituzione in Regione Toscana, significa avvicinare in particolar modo il Consiglio regionale anche fuori da Firenze e gli altri territori, in particolar modo a Pisa, un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto qui al Teatro Verdi di Pisa per appunto festeggiare questa data, questa ricorrenza fondamentale per l'umanità. Soddisfazione per il Comune e soprattutto per la partecipazione dei ragazzi delle scuole. Grazie alla collaborazione con la Regione siamo riusciti a coinvolgere anche le scuole che parteciperanno numerose a questo evento e i ragazzi saranno gli studenti protagonisti principali di questa serata. E questo è importante perché avviciniamo quindi gli studenti al teatro e anche avviciniamo gli studenti a una visione di Dante diversa rispetto a quella che imparano sulle banchi di scuola. Patrizia Poletti, presidente della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, come si inserisce questo evento nell'attività della stagione? Benissimo, noi abbiamo aperto la stagione con Cristicchi, quindi assolutamente perfetto il fatto che sia Cristicchi, perfetto il fatto che sia Dante perché noi abbiamo altre due rappresentazioni, una di danza e una di prosa, che riprendono Dante all'Iglieri, quindi si inserisce perfettamente e siamo molto onorati di ospitarla. Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, perché avete voluto questa iniziativa e questa presentazione a Pisa? L'abbiamo voluta a Pisa per raccontare anche qui uno spettacolo che mi ha toccato, da quello di Simone Cristicchi, dalle tenebre alla luce e per mandare un messaggio di speranza alle cittadine e ai cittadini pisani. Dopo il terribile anno e mezzo è possibile ritornare a rivedere le stelle ed è bello che questo spettacolo sia gratuito e offerto a tutti i cittadini e le cittadine della nostra città.